I have nothing against drugs whatsoever, that's kind of weird, I'd never heard that one used to take drugs. I have been documented in about 1500 species, animals, in incantivité and in natural environment. These behaviors are diffused between insects, cats and mammoths, in particular gelfini and pecore, but also between chimene and anthropomorphism. Un numero sempre crescente di scienziati conferma le success permanente in specie che formano coppie per la vita, come i pinguini o i piccioni, ma anche in specie poligono come le pescose. Una ricerca effettuata su testi ultime, afferma che circa l'8% degli arieti, posti di fronte all'interventa, ha preferenze sessuali per i meriti dell'oggi. Grazie per la visione!